215 progetti personalizzati divisi fra Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per favorire il reinserimento sociale. Questo è l'obiettivo di una rete per l'inclusione. L'iniziativa, già conclusa e presentata a Bari alla presenza dei vertici del Ministero della Giustizia e dei diversi enti del terzo settore del privato sociale, ha avuto come destinatari giovani di età compresa fra i 16 e 24 anni, con precedenti penali e attualmente affidati ai servizi della giustizia minorile. 32 ragazze e 15 ragazzi in stato di detenzione negli istituti penali minorili delle regioni interessate sono state coinvolti per sei mesi in progetti volti all'apprendimento e all'inserimento professionale. 56 tirocinanti in Sicilia, di cui 13 a Palermo e 5 a Trapani, che grazie al supporto di oltre 250 fra tutor della giustizia, operatori sociali e tutor aziendali, sono stati inseriti in aziende e attività artigiane in diversi settori commerciali, dalla meccanica ai servizi, dalla ristorazione alla cura del verde. Diciamo che all'inizio ho avuto i miei piccoli tempi di inserimento, ma una volta inserito mi sono trovata davvero bellissima. Adesso ho fatto domande per il servizio civile e spero di riuscirmelo a cavare da solo. Perché sono molto emozionato di questo primo giorno, spero che sia un grande inizio. Il progetto Una Rete per l'Inclusione ci ha concesso insomma di far coincidere una nostra esigenza con uno di questi percorsi, quindi è stato a beneficio sia della nostra cooperativa, sia dell'azienda, sia chiaramente del soggetto beneficiario. Beh, sta andando bene, sto imparando molte cose. E qual è il tuo ruolo all'interno del tirocinio? Sto aiutando come aiuto poco. Ti sei sentito accolto nel team di lavoro? Sì, sì, molto. Ti piace questo lavoro? Sì, sì. Cosa ti aspetti dal futuro? Prova a sognare agli occhi aperti. Secondo me di trovare molte più strade in cui posso avere la certezza di trovare un lavoro. Noi te lo auguriamo in bocca al lupo per tutto. Grazie Crepe. È stata un'esperienza unica e ripetibile perché ogni ragazzo che arriva qui in struttura, ogni vita diciamo è unica e ripetibile. Per il momento sto facendo l'aiuto pasticciere per impararmi il mestiere. L'avevi scelto tu, no? Nel percorso di orientamento avevi scelto tu di fare il pasticciere. Cosa hai imparato in questi pochi mesi? Dacci qualche esempio. Ho imparato a fare la crema, ho imparato a fare i cornetti, le craft, le brioche, le trecce. Ho imparato un po' di tutto. Beh, spero di lavorare qui e continuare il percorso bene come sto facendo adesso. Volevo un po' raccontare, diciamo, la mia esperienza. Prima di iniziare il tirocinio non avevo mai lavorato. Ho iniziato questo percorso e mi trovo molto bene. Ho trovato il titolare che è veramente una persona per bene. Mi faccio sentire subito il mio agio, non ci sono stati mai problemi. Una persona gentilissima. Più che lavoro mi sembra divertimento perché lavoriamo e allo stesso tempo ci divertiamo. Mi chiamo Jessica, ho 18 anni e ho iniziato il mio tirocinio per Smart Ventura il 10 maggio 2021. All'inizio non è stato molto facile, volevo solo fare i miei sei mesi e finire da lì. Poi piano piano ho capito cosa significa essere autonoma. Grazie allo staff di Smart Ventura che anche se non mi conoscevano mi hanno aperto le braccia e mi hanno fatto intanto nella loro organe di famiglia.